Blitz interforse all'albe di stamani nella zona alta della città contro l'abusivismo commerciale e parcheggio selvaggio ma anche per la verifica di licenze commerciali e autorizzazioni dell'uso del suolo pubblico rispetto alle norme sanitarie fiscali. Impegnati 16 persone, tra uomini di polizia di Stato, militari dell'arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, vigi urbani e ispettori dell'Asp che hanno svolto un'intensa attività di controllo finalizzata al contrasto dell'abusivismo commerciale e alla tutela della salute pubblica. Elevata una serie di contravvenzioni, denunciato e sanzionato commercianti e ambulanti che a vero titolo avrebbero violato enormi regolamenti per l'occupazione del suolo pubblico e altri reati a ventaglio. I residenti che abitano nei palazzi della zona hanno più volte denunciato l'abusivismo e l'occupazione del suolo pubblico con diversi mezzi. Reclamano il diritto di sostare nella pubblica via occupata abusivamente da camion, bancarelle, pedane, furgoni e motociclette sotto le proprie abitazioni nella piazzetta antistante tanto da non avere la possibilità di poter parcheggiare le proprie auto. Grazie 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 Grazie